Si va ingarbugliando la questione legata alla gestione del porto di Biceglie, dove l'amministrazione comunale dalla fine del 2013 detiene il 99% delle quote. A sollevare la problematica in essere, vista la massa debitoria della società che gestisce il porto, la Biceglie a Prodi, il consigliere d'opposizione Gianni Casella. Per l'ex avversario del sindaco Spina le ultime amministrative sono due le problematiche che il comune si troverà ad affrontare. Da un lato la debitoria, dall'altro il contenzioso legato all'acquisizione del 48% delle quote e la Biceglie a Prodi per 390.000 euro nel 2013. La problematica è su due binari. Intanto questa società ha delle perdite rilevanti negli anni precedenti, il che porta, sulla base di una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti del nostro comune, a istituire, così come prevede il Codice Civile in materia societaria, che superando un terzo del capitale sociale, senza indugio, la stessa società dovrebbe rimettere questo danaro. Quindi hai oltre ai 400.000 euro altri soldi pubblici per coprire queste perdite. E poi ci sarebbe probabilmente, anzi quasi sicuramente, un contenzioso aperto perché l'acquisizione della quota che il comune ha fatto è stata preceduta da un'acquisizione di un privato che in buona sostanza aveva acquistato dalla curatela fallimentare. Quindi, revocato quel momento, il comune si è immesso in questa procedura che era già stata avviata e credo che la parte che aveva già acquisito quella quota produrrà chiaramente, per danno emergente e lucrocessante, i suoi interessi, chiedendo un risarcimento danni. Non solo un problema di numeri, ma anche di gestione, viste le proteste dei diportisti che attraverso l'associazione di categoria hanno denunciato i malfunzionamenti della struttura. La gestione dell'attività del porto ha delle problematiche, tant'è vero che c'è un contenzioso aperto tra l'associazione di portisti e lo stesso comune di Biceglie a seguito di malcontenti sulla gestione proprio del porto in sé. Le questioni del porto potrebbero appesantire la situazione debitoria del comune di Biceglie, già passato al setaccio della sezione di controllo della Corte dei Conti per il bilancio consultivo 2011. Questi soldi potevano essere spesi diversamente, potevano essere spesi per la comunità, per la nostra città che ha necessità di essere riguardata e vista in un'altra ottica.